mamma mia che emozione abbiamo vissuto questa notte ragazzi che emozione in una partita veramente stratosferica giocata ad un'intensità monstre quella fra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks in una gara 5 che era un bivio, era un bivio l'avevamo detto dopo i due pari con entrambe le squadre che avevano vinto le loro rispettive partite in casa e adesso il primo colpaccio arriva da parte dei Bucks che sbancano Phoenix, lo sbancano in maniera rocambolesca lo sbancano rimontando da una situazione difficilissima perché erano sotto nettamente i Bucks a fine primo quarto dopo un primo quarto straordinario da parte dei Phoenix Suns che aveva permesso anche alla formazione di casa di arrivare a un vantaggio massimo se ne sbaglio di più 16 con un super crowder che aveva cominciato la partita con due triple con un Booker che veramente, Devin Booker aveva cominciato la partita in maniera straordinaria con tantissime percussioni personali poi nel secondo e terzo quarto è come se si fosse un po' spenta la luce per i Phoenix Suns ma merito va ovviamente tanto ai Milwaukee Bucks che hanno cambiato marcia grazie a un holiday straordinario rispetto a una gara quattro assolutamente negativa ieri sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva ha giocato una partita di livello sublime e poi i due fuoriclasse sono Middleton e ovviamente Yannis Antetokounmpo che anche ieri notte ha fatto un'altra partita di grande sostanza perché Antetokounmpo magari non è quel giocatore che che fa quelle percentuali straordinarie che fa tantissimi punti ma è proprio un leader è il leader morale dei Bucks e lo vediamo proprio da come riesce a tirarsi sulle spalle la sua squadra nonostante poi gli errori nonostante gli errori nei liberi che alla fine della partita stavano concedendo un'altra chance ai Phoenix Suns che se fossero state i Buccineci probabilmente la partita l'avrebbero riaperta l'avrebbero pure vinta perché hanno avuto la chance di vincerla i Phoenix Suns in un quarto quarto in cui i Milwaukee Bucks sembravano in controllo e invece stranezza del basket si sono fermati hanno giocato con il cronometro Braccino e allora il ritorno d'orgoglio dei Phoenix Suns che stavano per riaprire la partita e stavano per ritornare sotto e sono arrivati almeno uno e stavano davvero per arrivare a risolvere una partita che insomma riaprirla sarebbe stata e vincerla sarebbe stata un contro ribaltamento che avrebbe avuto del clamoroso ma a dimostrazione anche comunque della forza dei Phoenix Suns non è bastata non è bastato il parziale mostre di 79 a 53 dei Milwaukee Bucks nei due quarti centrali quello non è bastato a piegare i Phoenix Suns veramente queste Finals sono di altissimo livello sono di intensità straordinarie e ieri diciamo che nelle le due squadre non si sono equivalse hanno dato spettacolo forse sono state entrambe al top soltanto nelle ultime battute della partita anche se i Bucks già stavano un po' in flessione poi quando è arrivato il grandissimo momento dei Bucks sono calati i Suns e quel primo quarto invece abbagliante dei Phoenix Suns nel boato dell'arena dei Phoenix è equivalso a una prova all'inizio sottotono dei Bucks soprattutto meno meno concreta rispetto a quella della rispetto a quella che avevano offerto i i Suns insomma adesso i Suns serve un mezzo miracolo perché c'è da andare a sbancare miluocchi c'è da vincere per portare tutto e rinviare tutto a gara 7 in delle finals NBA straordinarie palpitanti fino alla fine che veramente vengono un equilibrio straordinario fra queste due formazioni e delle partite di altissimo livello giocate ad altissimo voltaggio nonostante qualche protagonista non sia al meglio della condizione come anche lo stesso ad Antetokumbo e nonostante ciò stanno stanno offrendo veramente delle delle partite ad un'intensità straordinaria con tantissimi ribaltamenti di fronte veramente sono partite che danno uno spettacolo una gigandola di emozioni straordinaria quel livello è assurdo è veramente assurdo sono curioso sono curioso di vedere questa gara 6 io mi immagino dei fans arrabbiati dei fans che vorranno reagire però andare a scardinare i miluocchi che non muoiono mai sotto 2 a 0 anche con i Brooklyn Nets sono andati a risolvere la serie come lo hanno fatto proprio in casa dei Nets all'ultima partita in quella gara 7 drammatica stratosferica e insomma la dimostrazione è arrivata anche in questa gara 5 che i miluocchi Bucks per piegarli devi veramente mandarli al tappeto ma mandarli KO una volta per tutte altrimenti se li lasci quel piccolo spiraglio i miluocchi Bucks non moriranno ma avranno sempre quella reazione straordinaria che hanno avuto anche in questa quinta gara della serie delle finals NBA fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate una balanza che mi piace al video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto a questo punto arrivederci ragazzi e al prossimo video al prossimo video che c'è che c'è